Un allenamento un po' più lungo del consueto. Questo è stato per i biancoverdi il match contro il Derelitto Lanciano. Un allenamento che ha confermato il buon momento dei marsicani, che alle cinque reti messi a segno possono aggiungere anche i cinque legni colpiti nel corso di una gara che non è mai stata in discussione. Ai frentani va concesso l'onore delle armi per essersi comunque battuti fino al termine. Gara che inizia con una incursione di Spinola sulla sinistra e successivo tiro che manda la sfera a picchiare sul palo alla destra di Rossetti già rassegnato al peggio. Sono passati 15 secondi ma già si intuisce quale potrà essere il tema di questa partita. Al dodicesimo Spinola concede il bis con un destro a colpo sicuro che indirizza la palla a terminare la propria corsa, questa volta contro la trasversale. E dopo un'altra occasione per i marsicani, al ventiduesimo è Besana a dover fare i conti con la barra superiore che viene scheggiata dal destro del terzino che forse meritava miglior fortuna. Per il Lanciano un tentativo di Di Benedetto che calcia alto dal limite con un destro abbastanza insidioso. E al trentaduesimo finalmente l'Avezzano passa per la prima volta. Lo fa col giovane Laguzzi che all'altezza del secondo palo quasi si inginocchia per colpire di testa la palla che termina in fondo al sacco. Poi in chiusura di tempo è Ica a colpire la traversa su azione di Spinola con questo destro di controbalzo che avrebbe potuto chiudere il discorso con ampio anticipo. Nella ripresa si inizia con Pendenza, l'unico a mancare nel tabellino dei marcatori, che colpisce nuovamente il montante alla sinistra di Rossetti con il tiro che abbiamo appena visto. E poi inizia il festival del gol che viene aperto da Blanco che con la maglia di Brentegani gira alle spalle di Rossetti l'invito al bacio del collazionale Castro. Ma un minuto dopo, incredibilmente, il lanciano torna in partita e lo fa col suo uomo migliore, quel di Benedetto che sarà l'ultimo ad arrendersi. Siamo al ventitresimo e un giro di lancette più tardi, Spinola chiude il conto. L'argentino carica il destro dai 20 metri e al povero Rossetti non resta altro che raccogliere la palla in fondo al sacco. Altri dieci minuti e il poker questa volta porta la firma di Besana, che scambia in area e in diagonale non perdona. Rasoterra verso il palo più lontano e siamo sul 4-1. A chiudere definitivamente la partita ci pensa nuovamente Spinola, che in contropiede azzecca il diagonale vincente con Rossetti praticamente immobile sul destro del numero 10. Altri due minuti di partita e l'allenamento si conclude. Per l'Avezzano è il quarto successo di fila, per il lanciano l'ottava batosta. La squadra è cresciuta tanto, ha più consapevolezza e più autostima. Ovviamente le vittorie aiutano tanto, la medicina. Però io devo dire che tranne la partita con Chiedi questa squadra ha sempre fatto il suo. Ultimamente stiamo raccogliendo quello che meritiamo e di conseguenza stanno venendo anche queste vittorie. Sono contento perché il gruppo è un gruppo valido, che si allena benissimo. Per cui sono contento per i ragazzi perché stanno facendo bene e se lo meritano. Ma no, rimpianto no, perché noi conosciamo perfettamente dove possiamo arrivare. Per noi era importante rimanere in partita il più a lungo possibile e cercare di tenere botta fino alla fine. Poi chiaramente avendo i cambi limitati, la partita per noi gli ultimi 20 minuti è sempre un pochettino in sofferenza. Certo rimanere un po' di più in partita poteva anche creare delle situazioni favorevoli anche negli episodi. Il nostro vero problema a livello tecnico è il Covid perché 13 casi ci hanno letteralmente messo in ginocchio e non riusciamo né a prepararci dovendo giocare ogni tre giorni e né a recuperarli tutti. Per quanto riguarda le novità societarie posso dire che noi abbiamo soltanto l'appoggio di Chiaretti e all'Uni che continuano a prepararci le partite e quindi a darci una mano sulle partite. Questi sono gli unici nostri referenti. Gli altri onestamente non li abbiamo visti mai se non con delle apparizioni in videoconferenza dove hanno sì fatto delle promesse ma nella sostanza non hanno mai mantenuto.